Semplicemente Paolo Fresu e Hurricane. Il pianista americano Hurricane e Paolo Fresu costituiscono una coppia artistica solida e vivace. Dal loro incontro avvenuto nel 2002 al festival curato da Fresu a Berchida, Time in Jets, si sono succeduti due dischi, Thinks e Think, e numerosi concerti. Le accomuna la visione della musica come una risorsa senza barriere, il rispetto verso la tradizione, una cultura enciclopedica a cui attingere e due percorsi reciproci di ricerca instancabile. Kane dal classico al contemporaneo al jazz, Fresu dal jazz ai mille linguaggi che la descrittività del suo stile consente di esplorare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.